ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video probabilmente l'ultimo per quanto riguarda questa serie di Ghostbusters classic 1984 prodotta da Hasbro perché al momento non ho ulteriori figure o fantasmi di questa serie c'era un altro fantasma grosso che veniva venduto però o non me lo ricordo io dai film oppure non c'entra nulla con i film visti finora quindi non mi interessava prenderlo magari sarà il fantasma principale del film che vedremo nelle sale quest'anno chi lo sa comunque andiamo a vedere il nostro omino di marshmallow guardiamo prima il box che è uguale a tutti gli altri quindi il logo Ghostbusters qui in alto qui l'immagine dell'omino di marshmallow già aperta la sua gimmick qui il suo nome con la scritta Ghostbusters logo Hasbro il logo della serie qui dietro un'immagine del nostro omino però vediamo qua dietro meglio e qua vi faccio leggere se volete la descrizione eccola qua quindi niente di più come tutte le altre scatole e adesso andiamo a vedere il nostro omino di marshmallow eccolo qua ve lo faccio vedere in primo piano quel qui è il volto fatto davvero davvero bene può ruotare anche la testa a 360 gradi le braccia si muovono ma quello è per la gimmick che dopo vi farò vedere carino guardate qua anche il suo cappellino il suo non mi viene il nome foulard davvero carino è fatto molto molto bene e in più questa gimmick che premendo le gambe lui ruota e alza le braccia così guardate qui all'interno ci sono altri omini di marshmallow e lì c'è tutto il marshmallow appunto che cola guardate qua che figata di essere riuscito a metterla bene a fuoco perché ne vale veramente veramente la pena anche questo come per slimer hanno fatto un lavoro eccezionale quindi ve lo consiglio al cento per cento se vi piace Ghostbusters soprattutto i primi film dove c'era l'omino di marshmallow prendetelo al volo perché è una figata anche così a lasciarlo così aperto è bellissimo adesso ve lo richiudo un secondo così vi faccio rivedere un attimo ancora la gimmick ecco qua quindi vediamo se si riesce a vedere meglio premiamo visto ruota così alza le braccia e la testa invece rimane ferma quindi molto particolare come come gimmick adesso ve lo metto qui ve lo metto anche a confronto con uno dei mostri dei set precedenti quali contenuti all'interno di Ghostbusters come vedete questo è molto più piccolo lo metto a paragone anche con lo slimer piccolino cioè nulla a che vedere come dimensione mettiamo la paragone anche con lo slimer gigante della stessa serie eccolo qui bene o male loro si equivalgono soprattutto se andiamo ad alzare slimer così con la bocca aperta si equivalgono se invece andiamo a chiudere la bocca e le braccia lasciando però la parte lì sotto che cola slimer risulta leggermente più più piccolo ok andiamo a prendere anche uno dei nostri Ghostbusters prendiamo Igon questa volta e lì risultano bene o male la stessa altezza anzi forse Igon risulta leggermente più alto anche se arriverà allo stesso livello del cappello ecco mettiamola così diciamo che non hanno rispettato le scale al cento per cento ma ci può stare benissimo alla fine sono dei giocattoli quindi i bambini sicuramente non si mettono a guardare la scala anche se credo che in realtà saranno più i collezionisti rispetto ai bambini che acquisteranno queste figure però questo fatemelo sapere qua sotto voi nei commenti e se siete collezionisti oppure bambini che vogliono appunto giocarci perché sono comunque dei giocattoli questi poiché ritragano personaggi da film di parecchi anni fa e che quindi siano un'attrattiva anche per i più anziani tra virgolette come me e allora fatemi sapere la vostra adesso ve lo metto in paragone con tutte le figure che ho di questa serie quindi facciamo un recap generale di tutto insieme vediamo come stanno tutti quanti allora prendiamo tutti i personaggi eccoci qua dove è finito peter eccolo qui peter deve essere con slimer per forza non c'è altra possibilità quindi mettiamolo qui e mettiamo anche gli altri fantasminis ce la facciamo così abbiamo fatto un bel recap completo qui abbiamo l'altro slimer qui abbiamo sempre questa caramella che quindi potrebbe andare bene con l'omino di marshmallow per finire abbiamo questa cosa qua che non ho ancora capito cosa è nonostante tutto che mettiamo qua dietro che ci sono stati tutti che bello bene quindi sono contento di questi acquisti stanno sicuramente molto bene sia in vetrina che anche appoggiati su una mensola oppure comunque sono ottimi anche per giocare secondo me se li regalate a un bambino che magari vedrà o i cartoni vecchi cartoni vecchi film che comunque sono invecchiati benissimo o comunque se gli fate vedere uno dei cioè il nuovo film che sta per uscita di ghostbuster sicuramente gli piaceranno tantissimo viste anche le gimmick interessanti che hanno comunque per questo video è tutto fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti noi ci vediamo ad un prossimo video alla prossima e ciao a tutti